Bobo, stavamo aspettando te per la Juve, dimmi da cosa vuoi iniziare? La Juve, visto che sta sveglio. Quello che state per dire voi, perché io ho visto un quarto d'ora e poi ho buttato via l'iPad. Motivo? Non sono riuscito dall'aria, ma che roba è? No, ma non posso giocare così, dai. Domanda Bobo, tu hai visto il quarto d'ora del primo tempo o del secondo? No, metà del primo tempo. Ok. Allora... Poi ho visto un po' di highlights, ma non capisco come... Non riesco a capire... Cioè, tutti i centrocampisti titolati. Ma no, ma tutti, tutti, tutti al limite dell'aria. Tipo, non riesco a capire come l'invento può essere così, non riesco a capire. E poi, cos'è che era la dichiarazione oggi? Cos'era a Lely che non mi ricordavo? Ti ricordo la bigliettata a pranzo. Che tu hai detto a rosicchiare? Sì, bisogna rosicchiare dei punti. Ma non è così che si migliora. Non è così che bisogna rosicchiare i punti. Dopo una fiammata che non è mai passata la metà campo, dobbiamo rosicchiare i punti. Ancora questo rosicchiare, la difesa, l'acere posta, la... Ma chi cazzo? Non lo so, non riesco a capire. Non riesco a capire, non c'è. Io non lo so, sono alivico. Sono tornato indietro al cuore di, come vi ho detto noi, ma è sempre... No, ma la cosa più preoccupante, adesso voglio fare un parallelo, perché sai Lely a me piace sempre fare i paragoni, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal presupposto della partita dell'altro giorno. La cosa più sconcertante, non so se avete sentito le dichiarazioni, che hanno fatto... Un buon primo tempo e poi abbiamo mollato il secondo. Un buon primo tempo. Non le capisco queste cose, non so, non capisco. O vuoi prendere per il culo chi non ha mai giocato a calcio, incompetenti, bene. E quello lo vuoi prendere per il culo, te la possono dar calda. I tifosi hanno gli occhi, ma soprattutto noi siamo attenti, guardiamo le partite. Ha detto abbiamo fatto un buon primo tempo. Lascia stare che poi hanno mollato lì, è una cagata. Un buon primo tempo. L'altro giorno la partita, se finiva 9-0, dovevano dire anche grazie. Una roba impressionante. Non hanno fatto una mezza uscita. Una volta Locatelli ha imboccato Oralta che stava facendo gol. Una roba impressionante a livello di ritmo, di occasione, di idee. Le ha squarciati. Quando io dico è preoccupante che la Juve non è da guardare. Non la Juve in sé per sé, la Juve. Caro Max, se ci senti o qualcuno te lo viene a riferire, non puoi andare avanti così. Io, siccome ti conosco, lo dico da una vita, o ti dai una mossa in avanti, oppure vai di male in peggio. perché io non posso pensare che la Juve è la squadra più forte in Italia e il parallelo che io e Lele voglio fare mi ricorda quel 4-4-2 di Simeone che sugli esterni metteva dei centrocampisti centrali. Lele sono due partite che sta facendo giocare quattro centrocampisti centrali di cui due centrali e due esterni che fanno i centrocampisti centrali. Follia, ragazzi. Follia. Follia. Poi in più quello che dice Bobo, come attaccante, tu sai che devi solo tenere la palla. E robano i coglioni a Morata. Poverino, cosa devi fare? Cioè, Morata è il meno colpevole di tutti. Mi risulta sia quello che ha mandato ai mondiali la Spagna. E' l'unico che ha un poverino l'altro giorno, una mezza occasione, che ha fatto un milagro di Agosino. Ma Lele, allora, se tu metti, oggi chiedi, ma per, a 70 metri dalla porta, uno contro cinque, che quando parti sei tu da solo, contro gli altri con preventive, ogni volta che si mettono a fare le difese. Ragazzi, è una follia. È una follia. Non è che noi, io voglio dire anche alla gente, i giuventini o anche altri tifosi, noi qui non ce l'abbiamo con nessuna squadra, né tantomeno con la Juve. Noi analizziamo, e se tutte e quattro le squadre italiane passano, noi facciamo festa. Sempre. Perché noi siamo felici. Poi ognuno la pensa a modo proprio, io sono interista, Lele di una squadra, Nicole dell'altro, Bob dell'altro. Però, ragazzi, vi dovete svegliare, ma soprattutto, non svegliare nel senso negativo, positivo nel senso che dovete iniziare a capire che questa squadra, la Juve, non può giocare così. Non può, ragazzi. Io mi sto iniziando. Quando l'altra volta ho detto che bisogna prendersi paura e bisogna un attimino darsi una mossa, è una roba impressionante. Io non so. Io veramente, quando ho sentito l'altro giorno, giuro ho cambiato, Lele, abbiamo fatto un buon primo tempo. Per me è follia, ragazzi. Poi guadagnerà 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni. Quello che tu dicevi l'altra volta, Lele, poi vi lascio la parola, che qualcuno lo deve aiutare, è la Madonna che l'aiuta. Perché altrimenti sono un attimo. È lo psicologo, è lo psichiatra, può darsi che arriverà un elenoteco che lo fa bere. Qualcuna, non lo so, non c'è alternativa da aiutare. Perché se le idee sono queste, aspetta, almeno il ciclo scorso, quando io dicevo, era bravo, lui è bravo nella gestione dei campioni. Perché mette all'erta a tutti, fa lo scontro con tutti, ti tiene sempre sul tivallà, delle scelte forti, dei campioni. Da ricostruire, la Juve ha fatto l'errore più grande che poteva fare. Cercare il modo di ricostruire, dare un gioco, ha fatto l'errore più grande di prendere Maxi. Ragazzi. Io aggiungo che la squadra è forte, sono convinto che è fortissima, però come se nella testa tu vedi Allegri e sembra come se lui pensassi, è la mia sensazione, che lui pensasse di avere una squadra scarsa e cominciano dei giocatori forti, titolari, tutti i nazionali, a giocare non benissimo perché era nessuno sufficiente. Io ho scritto oggi, ho mandato due foto al Cameloggi. Chiesa hanno offerto il Liverpool 80 milioni e un'altra squadra 100 milioni di euro di Chelsea. Vedi te? che stiamo a dire, chi stiamo a dire, ora va bene tutto, però che cazzo. Hai capito quello che volevo dire? Sì, no, capite, quindi no. Però, scusate, chi c'è? L'Atalanta domenica? Juventus. Scusate, ti lascio la parola al volo. Bobo, tu hai detto una cosa importante, Liverpool e Chelsea, giusto? I Chelsea, vedo la Cameloggi. Sì, anche Liverpool. Due allenatori che con Guardiola sono i tre più forti al mondo, poi in Agis, ma altri, devi aggiungere, vabbè, questi sono i allenatori che loro scendevano da Marte oggi e vedevano Chiesa, no, no, questo qua non lo prendiamo neanche in Tregi, ma Chiesa è un signor giocatore, quello che ha fatto all'Europeo e quello che lui ha fatto all'inizio di stagione e quello che lui potrebbe fare è devastante, è da quella cifra, ma se scendono da Marte questi due allenatori dicono Chiesa, no, 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 noi non lo prendiamo neanche in Tregi, o no, Lele? L'opinione è mia. No, Nick, Anto, ragazzi, ma, ormai è chiaro a tutti, sono sincero, nel senso, la Juventus ha giocato così anche quando c'era l'altro giro, io mi ricordo, l'ho detto e quando lo dicevo, era troppo per palati fini per capire che era concetto, non era legato ai risultati, quando la Juventus va in finale l'anno che trova Real Madrid, ok, che credo gli ottavi, direi, elimina il Tottenham, ok, che fa due a due in casa, che Iguain dà la palla di bala, no? Assolutamente. Iguain di bala, sì. Che fa due a due in casa e vince due a uno a Londra. In quelle squadre che erano rimaste perché va in quarti, quindi ne rimangono otto, la Juventus era la squadra con gli attaccanti che stavano più lontano e dalla porta di tutti. Io perché lo dico? Perché io faccio questo lavoro da una vita. Cioè, io se parlo unisco quello che vedo, quello che sento dentro e la ricerca. Non parlo mai solo per sentore, per visione e senza analizzare nel profondo. Lo so che tutti gli altri che sentite fanno un lavoro in un altro modo, ma non io. Non io. Quindi la Juventus giocava esattamente nello stesso modo di ora. Quello che tutti ormai vedono ora e dicono quello che dicevo io tre anni fa è semplicemente perché cresce il calcio intorno alla Juventus che decresce invece. Che decresce. E chiaramente oggi crescendo il calcio il tipo di calciatore che c'è a livello europeo è talmente completo che dice Atalanta ma fatemi capire un secondo se questi scudetti qua sono stati vinti 1-0 per la metà delle vittorie fatte 1-0 è sottile. Perché non cerchiamo? Dei giocatori funzionali che dal 6 li portiamo al 7 che se giocano insieme fanno 7,5 che se corrono il doppio fanno 8 che se hanno coraggio e ambizione arrivano all'8,5 un giocatore invece che vale 9 se gioca nella sua metà campo l'80% della partita ok? Invece di guardare la porta avversaria guarda la sua il centrocampista invece di inserirsi segue gli inserimenti degli altri l'attaccante primo ruolo marcare Brozovic Kulusevski con l'Inter ha fatto bene Kulusevski marcare Brozovic ma se noi andiamo in avanti ci sta che cambia la tendenza ed ecco che è quello che è successo nel mondo tranne a Torino tranne a Torino allora ma chi vi vede e chi ricerca e chi si espone perché è libero vi aveva già dato l'indirizzo perché ripeto di Bale e Iguain che decidono quella partita col Tottenham sono stati gli attaccanti nelle otto squadre più forti di Champions League che più giocavano nella loro metà campo quindi poi accade con l'operato di Padre Tempo perché Padre Tempo ci rende conto a tutti tutti dobbiamo un giorno arrivare davanti a Padre Tempo e cosa ci fa vedere che non il Chelsea le riserve del Chelsea perché Cialoba Ziek James Ziek Azzonodoy Pulisic sono riserve e sono 5-6 giocatori su 10 di movimento a proposito dopo mezz'ora è uscito anche Kanté perché non ce n'era bisogno difende perché fuori ma è uscito così da Black Kanté è uscito perché che deve recuperare Kanté si rompeva la minchia capito cioè Kanté che in genere pressa su tutti i giocatori più vicini a Kanté erano le due punte ma li aveva davanti li aveva davanti non doveva correre indietro perché le punte li aveva davanti allora se voi guardate il secondo e terzo gol della Juve scusate del Chelsea chi rifinisce a centro area cioè al limite dell'area del Chelsea chi scarica sulla sinistra per il gol di James perché poi viene fatto il traversore e James chiude sul lato debole è Rudiger Rudiger gioca l'ultimo pallone fuori dall'area avversaria prima sul gol di James poi sull'altro gol perché scarica a destra lui gioca la palla ma scarica a destra e poi fanno a zig zag lungo la parte laterale diciamo orizzontale dell'area e chiudono sulla parte sinistra è Rudiger che rifinisce capito è proprio Rudiger non è Ziyech o Havers o Pulisic o Mount è Rudiger mi schiacciato ma questo sono stati i gol ma però tu dici caspita la Champions League ma il problema non è quella partita è dare troppo peso a quella dell'andata perché se tu l'andata dando merito ma non sai leggere e dici caspita lo spirito ritrovato questo è quello che ci vuole lezione a Tuchel invece di capire che Tuchel non è stato neanche letto in quella partita dove la Juve ha tirato di più il Chelsea l'ha fatta ma non ha mai tirato noi cosa abbiamo detto quel giorno dopo ha meritato la Juve ma vi abbiamo detto analizzatela però perché perché fra un giorno un mese tre mesi la Juve ne vincerà ancora di quelle partite così ma se voi non capite che non può essere quella la strada poi capiteranno degli altri Chelsea-Juve e per dare più sostanza e forza a questa ormai chiara a tutti lettura perché ormai non è tre anni fa adesso è chiaro a tutti a chi ci ascolta ci segue e lo ha verificato a chi ci ascolta ci segue non lo dice non lo diciamo verifica perché magari a livello di presunzione e poca umiltà pensa di non andarlo a verificare però gli arrivi in faccia la verità a chi deve dire il contrario aspettando in grazia che accada il contrario per poi alimentare la mediocrità non costruendo nell'analisi però è chiaro a tutti a chi la vede in un modo che non è ormai siamo tutti uniti dentro ciò che è palese ok che questa squadra pensa calcio in maniera inadeguata inadeguata per il calcio di oggi inadeguata per la forza che ha la squadra inadeguata per lo status che ha la società inadeguata non è più proponibile come sono quelli che dicevano che era tutto a colpa di Ronaldo certo però ragazzi per andare più perché noi parliamo di Coppa Campioni facciamo una cosa andiamo a vedere due dati che ve li offro proprio a voi e a voi a casa ragazzi ma partiamo col primo metti una delle due cose che ti ho fatto vedere oggi per far capire degli aspetti del gioco della Juve allora il baricentro della Juve questo è il campionato di Serie A è sedicesima ragazzi il Genoa è più alta il Genoa e l'Udinese sono più in alto e lì non me lo sono inventato lo vedete questa grafica la Juventus è la sedicesima squadra come baricentro medio dentro il campo ma se a te non ti interessa stare più in alto mi dici come ti può interessare fare gol questo è il baricentro la Fiorentina la Sampdoria ragazzi la Salernitana gioca il Verona l'Empoli l'Empoli è sesto questo è il baricentro e lo teniamo un attimo lì è da prendersi paura questo è da prendersi paura ecco sull'altra invece è da buttarsi da un bancone perché questo è il pressing è diciottesima questo è il pressing questa è l'altezza media dove fa pressing guarda guarda la Roma allora ragazzi io vi dico una cosa cioè non può con tutto rispetto l'Udinese la Salernitana il Torino che noi lo vediamo lo spezia perché ti dico così perché se tu solo il Cagliaro e Venezia pressano più lontani dai ragazzi il pressing tu dici come mai la Juventus Bentancur entra perde palla che ne so Rabiot girato di spalla perde palla perché la Juventus subisce una cosa che non conosce il pressing se tu non sei abituato a farlo Anto come hai idea che te lo facciano perché tu vivi una partita dove non sai cos'è il pressing ma voi vi ricordate un evento che ne so che la palla viaggia velocemente il Cech ci ha fatto viaggiare la palla 95 minuti perché la partita finisce sull'ultimo gol di Werner c'è il fischio finale viaggia la palla avanti indietro nello spazio accorciano toccano recuperano 4 su un giocatore quando ha rubato la palla Bentancur erano in 4 se la Juventus questo non è abituato a farla perché perché la prima pressione perché non lo sa fare ragazzi se Di Bale e Morata o Morata Kluseschi o Chiesa e Bernardeschi mettete chi vuoi come perde la palla la Juventus corrono a metà campo e sul giro palla avversario indirizzano e la prima pressione inizia 10 metri dentro la tua metà campo come puoi pensare che ti vengono naturali le occasioni da gol ma diventa un'impresa farne una allora io vi esorto a ricordare quando io qui facendo un esempio di una partita vi dissi la Juventus 15 tir li fa in un mese non dovete verificarlo ragazzi perché è già stato verificato chi vi dice queste cose è gente che analizza che guarda le partite poi cosa accade se domani la Juventus e dovrà dimostrarlo perché può farlo arrivo a dirti che deve la Juventus deve non può esimersi dal parlo toglielo esatto allora poi se lo fa volentieri lunedì analizziamo e diremo come si è detto a Roma con la Lazio che io l'ho detto io l'ho detto allora anzi forse di noi sono stato quello che l'ha vista meglio in positivo la Juve perché invece Anto comunque eri sempre dentro quel focus al di là della vittoria io dico a Roma la Juve non ha sofferto tanto ha palleggiato un po' di più la Lazio non ha mai tirato in porta ha avuto le sue occasioni sempre quelle a campo aperto sempre le occasioni però le ha avute allora caspita non ci vuole così tanto ad alzare un po' il livello di qualità del gioco a dare più felicità ai giocatori tu i giocatori io l'ho detto dalle prime due o tre giornate quando ha perso con l'Empoli chiedetevi questo sono felici i giocatori della Juve voi dite è certo hai detto una cosa che è importante ma non è possibile che sia vera tu adesso hai detto i ragazzi la Juve deve farlo il problema è giusto che deve farlo ma se l'allenatore non glielo fa fare e non lo sa svolgere sul campo lavorandolo di cosa parli assolutamente tu ovviamente secondo me non ce l'ha lui però se vuoi puoi cambiarlo guarda nel senso lo puoi allenare ti fai aiutare ma lui ti sta dicendo il perché non lo fa perché non lo allena te lo sta dicendo zero ti ho detto per quello non è che non te lo dice così la seconda la seconda statistica di Lele lo sai che è la prima la Roma esatto perché a fronte di qualche rischio dietro però almeno la Roma la Roma ricordiamo Murigno che tipo di allenatore quando dicevamo che cambia vedi Lele tu hai sempre l'altra volta che noi abbiamo discusso che qualcuno deve aiutarle eccetera 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 poi c'è l'egocentrismo di una persona la persona che sta al centro della chiesa e dice io non ho bisogno di aiuto andate fuori dai coglioni Murigno che ha vinto tutto dove andate andato quello che ti voglio dire intelligente si è preso delle persone nel suo staff che gli possono dare certo che li possono lo possono aiutare già quello che lui ha aiutarla ancora di più lo staff di Murigno è da veramente da top da number one lo staff di Allegri ragazzi io conosco li conosco lo staff di Allegri che Dio ci vuol benedire così perché è alla Carlona e così fidati Nick perché puoi fare quello che vuoi se Murigno l'ha fatto lo può fare anche lui e che non lo vuol fare quando vedi la formazione del Chelsea che non sai dei quattro centrocampisti che giocherà sull'esterno vuol dire che non lo vuoi fare non vuoi cambiare no non che non lo vuoi fare non lo sai fare che è diverso Nick e questa è un aggravante molto grande perché la cosa che tu dici oh domani Antò fai l'allenatore e io dico sì sì lo faccio ma se non sono buono che cazzo mi vado a buttare in una parte dove io non sono buono se io invece sono intelligente dico sì come ho sempre detto nel mio lavoro che vorrei fare io vado a chiamare chi è più bravo di me mi può aiutare Lele perché io sono intelligente Lele vieni un attimo qua mi aiuti perché sei più bravo di me io non sono che non ho non è che tu dici non ho umiltà io posso sapere fino a un certo punto poi devo trovare qualcuno che a me mi può aiutare a essere migliore e questo va dato merito alla mia intelligenza se però tu ti accontenti quello che hai dito di dieci milioni lo staff è sempre quello si ride si scherza si dice sì giochiamo alla Carlona giochiamo non ci gioca alla conclusione è sempre quello non fai niente perché tu Anto hai toccato un tasto prima che si va a unire a questa cosa che hai detto adesso che secondo me fa assumere questa diciamo così questa situazione questo stato delle cose fa assumere ancora una gravità maggiore che è la seguente tu prima hai parlato di persone di gente di tifo di passione noi diciamo l'elemento imprescindibile nel calcio è il seguito della gente è il tifoso ripeto questa sera venerdì sera la gente avrà tanto da fare pure questi ragazzi ci seguono sono 13 mila e nel contesto della serata ragazzi sarete centinaia di migliaia che state con noi allora il discorso cos'è che mentre tu pensi e svolgi la tua professione in un modo ok tu puoi avere delle certezze tu puoi avere delle convinzioni tanto è vero che dov'è che trovi forza nel mandato che ti dà la proprietà è la proprietà che ti ingaggia per queste convinzioni però tirare per scemi le persone è veramente un elemento un comportamento talmente poco nobile ok che il rispetto non è di chi analizza è di chi ama è di chi appassionato di quella maglia di quei colori ti dirò di più di chi ti ha sostenuto sempre oltre ogni ragionevole dubbio a priori andando contro a volte un ragionamento comune che invitava a pensare ciò che tutto il mondo vede adesso tutto il mondo vede adesso capito ma nell'analisi nell'analisi i tuoi tifosi ti hanno sempre sostenuto senza metterti neanche in discussione cosa accade che il tifoso che è passionale è volubile adesso adesso nello stesso modo ti gira le spalle oltre ogni ragionevole dubbio ma perché perché si sente preso in giro e come lo verifica perché una volta non c'era chi metteva diciamo così la pulce all'orecchio come dire mi stanno dicendo una cosa ma è proprio vero eppure in effetti è vero che Ajax Lione i vari passaggi no? Porto e poi dopo salta qua salta là però mi dicono ma noi ci interessa vincere allora ti dico questo se interessa vincere ma veramente pensi che i tifosi li conquisti dicendo abbiamo fatto un buon primo tempo? cioè il ragionamento al tifoso è quello di dire visto che non abbiamo per i 5 gol che dovevamo prendere e ne abbiamo preso solo uno abbiamo fatto bene? pensi che siano così coglioni i tifosi? c'è questo che ricambi nell'amore che ti dà il tifoso nel seguito nella passione questa parola buon primo tempo pensi veramente di illuderli? insisto sbaglio oggi è stato detto mi è stato detto di vincere se non è 6 mesi sarà un anno se non è un anno è 2 alt a me risulta che l'unico argomento è sempre stato chi vince parla chi perde non deve parlare adesso però ci si prende del tempo perché si vede che le cose sono più complicate del previsto ma come? non era chi ha il potere della vittoria che può parlare? chiaro e gli altri non devono giustificare? a me sembra che cominciano a uscire giustificazioni o sbaglio? è questo l'insegnamento e la restituzione dell'affetto di chi ti ha sostenuto oltre ogni ragionevole dubbio che si dice così tra una settimana e l'altra tre giorni e un altro così? o sbaglio? perché allora a questo punto torno nei vecchi discorsi mi sembra che si stia facendo teoria che ora è chi intenda mi sembra che sia teoria mi han chiesto di vincere se non è sei mesi è un anno o due anni questo sì che è teoria questo vuol dire non essere teorici questo qua vuol dire prendere in giro i tuoi tifosi allora io dico ai tifosi che non sono per un allenatore o un altro sono per una maglia io dico sappiate chi seguire tifate sostenete amate perché non ve lo chiede nessuno lo sentite del cuore ma non fatevi prendere in giro scusa Dele era più accettabile il tempo che lo si dava a Sarri ma soprattutto ad Andrea Pirlo sì ma ti sei imputtanato Antò cosa fai adesso? no ma tu immagini Nick la cosa folle qual è? che io allenatore che vengo da un curriculum importante e in più adesso ho un aggravante guadagno 10 milioni di euro a stagione aspetto 6 mesi aspetto un anno o aspetto due anni follia io mi piacerebbe essere una farfalla e ascoltare quello che dice Andrea Niendi mi piacerebbe io non lo conosco mi piacerebbe dire cavolo ma tu cavolo dal primo momento hai creato un impero alla Juve facendo benissimo quello quello quell'altro volevi cambiare poi sei ritornata alla base ma oggi i risultati di idee non di risultati se vincere o per perché ripeto puoi anche perdere io non me ne frega niente io ho sempre guardato le mie scuole quando giocavo come io giocavo non me ne fregava niente vincere i trofei vincere in un modo o nell'altro Bielsa me lo insegna a me però io non posso pensare che la Juve ha la rossa più forte del campionato ed è in queste condizioni e va e che lei le ha detto e io sono d'accordo l'unica squadra che può fare strada in Coppa dei Campioni è la Juve la Juve va col Chelsea che è una delle più forti in Europa e ti hanno disintegrato e tu qual è la tua scusante? abbiamo fatto un buon primo tempo mi piacerebbe l'altra ha i complimenti per il passaggio del turno ah bene hai giocato con lo Zenit e il Molte ma io dico secondo me questo te lo fa un passare perché sei stato ingaggiato e ti ripeto io penso che Allegri abbia veramente uno status e una confidenza con l'ambiente che il richiamo se condiviso occhio ce l'aveva ce l'aveva però io dico ragiono dico quindi la forza del mandato è di una fiducia totale ma la fiducia verso la gente non te la dà la durata e la forza del contratto te la dà la credibilità te la dà l'argomento te la dà l'idea te la dà il coraggio cioè ragazzi voglio dire in Champions League era dal 53 che non apprendeva una batosta così ma non è il come cioè non è quanto è come e soprattutto non è diciamo così il risultato di per sé ma è come è stato argomentato grazie a tutti